Conferenza stampa di presentazione oggi a Palazzo Cisterna della seconda edizione provinciale di Bike to Work, il progetto che mira mettere in sella il maggior numero possibile di lavoratori per innescare una spirale favorevole agli spostamenti caso ufficio in bicicletta. Bike to Work, una delle iniziative che fanno parte della settimana europea della mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre, si appoggia da quest'anno sulla piattaforma del progetto Horizon Seta del Comune di Torino. Grazie a un'app scaricabile sul proprio smartphone, dal 2 ottobre sarà possibile iscriversi e poi partecipare alla gara che metterà in competizione enti e aziende del torinese, suddivisi in diverse categorie a seconda del numero di dipendenti. Il concorso durerà dal 10 ottobre al 31 dicembre. Ogni singolo partecipante inserirà nello smartphone i dati dei propri spostamenti casalavoro e alla fine risulterà vincitore lente o l'azienda con il maggior numero di dipendenti pedalatori e con il maggior numero di chilometri percorsi. La città metropolitana di Torino coordinerà anche il VII Giretto d'Italia. L'iniziativa che si svolgerà giovedì 21 settembre, organizzata dalle Gambienta e Velo Love, è nata anch'essa per incentivare i tragitti casalavoro sulle due ruote. Al termine della conferenza stampa si sono svolti i lavori del convegno Smart and Sharing Mobility, Condividere ti porta lontano, durante i quali sono stati illustrati i programmi e le politiche dell'Unione Europea sul tema e si è parlato con vari esperti di mobilità sostenibile intorno ai pezzi scolastici, di mobilità elettrica condivisa e anche di smart working e co-working. La mobilità sostenibile è alla base del radicamento e dell'usufruire di tutti quelli che sono i diritti inalienabili di un uomo che vive nell'ambito di una città metropolitana. Per cui bisogna investire su questo. Ad oggi noi utilizziamo i progetti europei, però almeno personalmente io auspico che possa essere finalmente anche un investimento di natura economica, quindi finanziaria, da parte delle istituzioni e quindi da parte dello Stato, perché se non si migliora la mobilità in ambito metropolitano e se non la si rende sostenibile, avvengono e non diventano strutturati i progetti che noi oggi portiamo in visione a tutti gli stakeholders, ci ritroveremo a non poter più colmare in breve tempo quel gap che ci separa dai paesi del nord Europa. Le città sono sempre state gli spazi condivisi e sono negli ultimi cento anni che con l'avvento dell'automobile si è approcciato il tema della mobilità in maniera funzionalistica, quindi separando i flussi eccetera. Adesso con la crescita delle città e l'urbanizzazione sta diventando sempre più necessario mischiare le varie modalità. Ora, quali sono i vantaggi? Facendo un mix tra modi, bicicletta, trasporto pubblico e automobili a bassa velocità il sistema acquisisce maggiore efficienza. efficienza perché le persone negoziano, sono forzate a negoziare i propri spazi e allo stesso tempo interagire per poter passare. Questo è un sistema che serve a migliorare non solo la qualità dello spazio pubblico ma anche l'efficienza perché non c'è più il semaforo che deve regolare l'incrocio per dire, ma è la negoziazione tra le persone che permette appunto un trasporto più efficiente.